Attenzione, la creatura che appare in questo filmato è molto pericolosa. Ci troviamo in un piccolo bosco del nord Italia. Alcuni youtuber stanno facendo una tranquilla passeggiata. Ad un tratto notano una strana creatura e cominciano a documentare il tutto con la loro videocamera. Corri! 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 Allora, abbiamo visto una creatura strana di là nel bosco. Era più o meno bassa. Io credo che sia un gnomo armato di ascia. Quello che sta seminando il terrore in tutto Sud America. Io ho questa paura, però io e l'operatore lo riprendiamo da lontano. Voi rimanete con noi. Andiamo! Corri! 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 Allora, ci siamo rifugiati qua, perché abbiamo visto un'ombra, una, che indossava tipo degli abiti medievali Vedi, 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 esco a vedere Vedi, 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 cazzo si sta muovendo, si sta muovendo Via, 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 non corri, non corri, non corri Guardalo, 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 lo vedi, guardalo che salta No, no, aspetta, no, no, aspetta, aspetta, aspetta Corri Via, via Ci sono scosse, dietro, dietro, ci stiamo seguendo Adesso, ci sono scosse dietro questo muro, io ho paura che sia su lì, ho paura che sia su lì, ci stia ascoltando Jacopo, ci sei? Sì, sì Ho paura che ci sia su lì, ci stia, riprendi su lì Ho paura che sia su lì, aspetta che tiro sul piano, eh Stiaaaaaa A presto